Chi è venuto? C'è qualcuno che è venuto? Chi è venuto? Chi è venuto? Chi è venuto? Così, dacci un bacio, scrive, mandoci un bacio e quello lo capisce meglio e ci parli con le cose difficili me lo strambi un poco. Dacci 10 baci, così. 10 baci. Ok, sì, sì, piano piano a felice pomparsi. Sì, piano piano. Allora, vacci vicino e ci do 10 baci, così. Mandoci 10 muconi, così. Glorie a Dio. Roberto, se ci sei, batti un colpo. Dai l'invito, così ti faccio salire. Glorie a Dio. Ci fosse bisogno di una testimonianza stasera. Chi sale per fare una testimonianza? Chi che vuole salire per fare una testimonianza? Roberto, te la senti di fare la testimonianza? C'è qualcuno delle sorelle che io non conosco, che vuole testimoniare qui nella live, che ha 501 amici e 501 follower, che può salire e parlare? Chi è? Felice Pompassi, già a Gazzaluna ti manda un cuore. Hai visto che già avete fraternizzato? Bravo, felice. Felice, ti concedo tutte le mie innamorate sorelle che sono qua. te li passo tutti, 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 te li passo. Ok? Sentiti felice nell'amore del Signore. Ma come? Si chiama felice e tu ci dici sii felice. Che bello però. felice di nome e adesso sarai felice di fatti. Hai incontrato la felicità in queste life. Che bello, siete uniti. Si, ma non sai quando. Non lo sai quando. Non lo sai. E non lo potrai neanche capire. Ci vuole molto per capirlo. Noi adoperiamo l'amore, Aghebe, l'amore di Dio. Mentre noi preghiamo, ci sentiamo innamorati. L'uno con l'altro. Così sarà anche per te. Noi condividiamo l'amore universale. percepiamo l'amore puro di Gesù. Questo noi facciamo. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. E allora, roba della sentite testimoniale della sentite testimoniale. Felice dice anch'io voglio fare parte di questa famiglia. Ma tu già ci sei parte. Tu sei già dentro. Tu già fai parte della famiglia. Sentite felice. vedi la sorella Gattaluna già ti sta facendo la corte nel Signore Gesù. Sei felice. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Se hai degli amici che sono traumatizzati, malati, qui il Signore cura anche il tumore. febbroni, mal di schiena, capelli che cadono e affacciano di nuovo, persone grasse che sono diabetici. Li cura il Signore con niente, senza operazione. possiamo leggere Luca 8, versetto 45, subito, Sasca, prendo la Bibbia e lo leggiamo. Allora, fratello Roberto, leggo questo versetto e parliamo. Mi è stato chiesto Luca 8, versetto 45. 25. Ecco. vediamo Dio cosa ci vuole dire si dimmi no dico Angelo leggendo questo versetto questo passo vediamo Dio cosa ci vuole dire si Luca 8 versetto 45 nel versetto 45 nel luca 8 ci dice allora sorella Sasca dice prima 44 e poi 45 va bene allora nel 44 dice si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito e in quell'istante il suo flusso di sangue il suo flusso di sangue si arrestò e Gesù disse chi mi ha toccato siccome tutti lo negavano Pietro e coloro che erano con lui disse maestro 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 le folle ti stringono e ti premono e tu dici chi mi ha toccato allora vogliamo identificare ciò che dice il signore con queste parole il signore il signore qualcuno mi ha toccato e siccome c'erano tanta gente che lo stringevano e Pietro vedendo che nessuno rispondeva per non far arrabbiare il maestro perché insisteva Gesù chi mi ha toccato sapete come quando quando c'è qualcosa che qualcuno dice e per non farlo strillare per non farlo arrabbiare ma sì che vuoi farci e la vita è così come ci diciamo noi la vita è così ci sono tante convenienze tante cose e no quello dice no non è così io sono stato toccato a me mi hanno toccato mi hanno toccato il cuore mi hanno fatto arrabbiare qui invece Gesù dice chi mi ha toccato sapete perché perché Gesù sentì dentro di lui una fuoriuscita di energia potentissima perché quell'energia che uscì da Gesù placò la ferita che aveva quella donna quella donna aveva da tantissimi anni una perdita di sangue e le donne solo possono capire cosa è questa perdita di sangue perché ci sono donne oh signora sei di nuovo qua in questo profilo sta dando una luce Gesù guardate questa è la serata di Gesù ciao dimico immacolata grazie della tua offerta Dio ti benedica domani chiamami se hai tempo oppure quando hai tempo mi chiami in qualunque momento gloria a Dio e allora questa donna che toccò Gesù inconsapevolmente mentre che diceva lei se riesco a toccare il lembo del suo mantello sarò guarito sarò guarito dentro di lei successe come una calamita sapete le calamite che quando toccano metallo la traggono lei diventò una calamita di energie Gesù fu sottratto della maggior parte dell'energia di quella donna e si sentì svuotato e a voglia che Pietro gli disse ma maestro non vedi come la gente ti stringe e tutti ti toccano tu dici chi mi ha toccato no qualcuno mi ha toccato e io ho perduto una potenza di energia che è uscita da me e quando insisteva 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 quella donna che è stata guarita dal flusso di sangue ebbe paura si sentì a disagio e allora si mise ai piedi di Gesù e gli disse Gesù maestro perdonami io ti ho toccato avevo paura di dirtelo però ho visto la tua insistenza e sono stato costretto a dirlo abbi pietà di me io ti ho toccato erano tantissimi anni che avevo una perdita di sangue ho speso tutto il mio avere tra dottori e nessuno mi ha guarito quando ho sentito che tu venivi per questa strada sono partito di casa mia e ogni passo che facevo dicevo se io riesco a toccare il lembo del mandello del maestro sarà guarita e faceva un passo e se riesco a toccare il lembo del mio maestro sarò guarita facevo un altro passo e se riesco a toccare il lembo del maestro sarò guarita io mi sto sentendo i brividi dentro di me ecco perché quella donna guarì perché ogni passo che faceva replicava quell'energia dentro di lei che entrava ciao amore che ecco leone Dio ti benedica gloria a te signore ecco cosa successe successe che quella donna guarì da sola volete guarire da soli c'è un metodo c'è un metodo infallibile dovete inginocchiarvi adesso tutti 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 in ginocchio chiudere gli occhi e visualizzare Gesù e poi immaginare tutti i vostri peccati prenderli con la mano e buttarli ai piedi di Gesù se voi fate questo guarirete se non lo sapete fare domani mi chiamate con la webcam e whatsapp e vi dirò cosa dovete fare prendete il numero di telefono nel mio sito prendete il numero di telefono nel mio sito andate nel mio sito prendete il numero di telefono guardate ciò che c'è scritto ciò che c'è scritto dovete fare se fate quello avete risolto tutti i vostri problemi perché come mi chiamerete vi passeranno tutti i dolori le difficoltà e avrete tutto della vita perché rifiutare questa offerta Dio vi vuole sanare perché non approfittarvi approfittatevi oggi c'è l'offerta due pacchi in uno domani questa offerta scadrà oggi due pacchi in uno chi prende un pacco ne prende due oggi domani non si sa offerta scondata da Dio e Gesù ciao Barbara amore come stai che sono queste pacche cosa fanno allora raccontami unnesia e giallona cosa sono queste pacche fratello questi pacchi sono l'offerta stasera c'è l'offerta due pacchi in uno per chi ancora non ha capito che deve fare l'offerta hai capito ho capito stasera c'è l'offerta per tutti quelli che vogliono guarire passano nel mio sito c'è l'offerta stasera fanno l'offerta domani mi chiamano e guariscono allora c'è bisogno c'è bisogno una testimonianza chi è che si offre a testimoniare allora felice è in ginocchio allora c'è anche che con leone che è in ginocchio allora che con leone è in ginocchio allora chiudete gli occhi immaginate Gesù nel vostro pensiero che sia davanti a voi e mentre chiudete gli occhi immaginate i vostri problemi prendeteli con la mano e li buttate ai piedi di Gesù gli occhi non li dovete aprire semmai gli buttate tutto ciò che avete fatto di male nella vostra vita da bambino fino adesso fate questo mentre fate questo vedrete che piano piano vi svuotate di tutti i vostri problemi le vostre angustie le vostre difficoltà tutto tutto ai piedi di Gesù lo stai facendo Barbara tutto 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 butta tutti i piedi di Gesù tutti tutti i peccati tutte le cose che ti ha fatto tuo marito tutto tutto tutti i tuoi figli tutti i piedi di Gesù tutto così vede come lo fa bene la sorella Barbara gloria a Dio gloria a Dio gloria al Signore alleluia allora chi è in ginocchio immagini Gesù con gli occhi chiusi non ti preoccupare immagina che sei in ginocchio stando all'impiede immagina che sei in ginocchio solo devi immaginare tutto con la mente potete fare gloria a Dio alleluia alleluia tutto ai piedi di Gesù così tutti i piedi di Gesù tutti i piedi di Gesù tutti i piedi di Gesù butto tutta i piedi di Gesù guarda l'anticole fino adesso che sono grande tutto 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 il mio grasso il mio grasso tutto tutto la mia asma il mio cuore gloria a Dio e fratello Michele Miraglia dice gloria Signore alleluia il fratello dice grazie per avermi nominato gestore ogni tanto mi assento perché riconosciamo diamoci una cosa importante e glorioso Signore dice aiutati che Dio ti aiuta significa che nella vita bisogna fare tutto con equilibrio cioè se per un'ora guardiamo la televisione poi ci vuole anche una bella passeggiata oppure fare qualche esercizio di strec poi bisogna trovare il tempo anche di meditare e pregare ogni giorno tre volte al giorno pregare e bravo fratello bravo l'onnipotente l'onnipotente Padre in nome del gloriosissimo Cristo Gesù bravo bravo fratello così vedete vedete fratello Michele Miraglia è molto in gamba fatelo fatelo quello che ha scritto il fratello strechting che significa strechting è un tipo di palestra con il massaggiatore che ti massaggia le costole la schiena le braccia il collo la cervicale passeggiare sopra un rullo automatico come se passeggiassi sbelto esercizi di espansione questo è strechting che bello adoro i massaggiatore ma donne o uomini bisogna specificare a chi adoro se adoro i massaggiatore uomini o donne qui dobbiamo specificare io no per me non c'è differenza a me io sono stato massaggiato da un dottore ad agrigento che si chiama come me angelo piccone ad agrigento e c'è filmato in youtube lo potete andare a vedere e uno mica deve pensare che deve essere forse una donna deve pensare sempre alle cose che non deve pensare anche un uomo ti può passeggiare se è bravo non devi pensare il senso la donna la donna non fa altro che stimolarti quello che tu pensi hai capito e poi ti resta solo quello guarda Roberto che c'è il fratello felice che ti vuole fare un massaggio guarda che lui è capace di fare un massaggio lo sciazzo eh lo sciazzo ti fa un massaggio se tu hai bisogno di un massaggio e veramente Roberto ne ha bisogno più di uno massaggio lui ha bisogno più di un massaggio perché lui è un po' disturbato nella schiena nelle gambe lui avrebbe bisogno una persona che sta una persona che si prende cura di lui le gambe la schiena allora te lo faccio Robè sì che ce lo fai vacci dacci l'interizzo Robè che ti viene a fare un massaggio felice va bene dacci l'interizzo ma felice non va e non lo so prima guardatevi l'amicizia vi passate il numero e telefono e così ti viene a trovare e ti fa il massaggio perché per dirti questo vuol dire che lui è bravissimo lui dice che è a Roma dove sei tu? dove sei tu? Robè che ti siete dati la voce? con un estere che dice un estere a Roma a Roma lui a Roma dice tu dove sei? un estere Robè Robè io vicino a Roma e allora hai visto? vicino a Roma vicino a Roma e dacci l'interizzo che ti viene a trovare domani scrivilo scrivilo che così se lo segna con la voce può cambiare qualche vocale e non ti trova segnalo indirizzo via felice seguimi fammi segui facci mi segui felice così te lo scrive in privato se no qua tutte le donne lo vanno a trovare e lui non vuole essere disturbato ti ha già seguito Robè seguilo pure tu e ci scrivi l'interizzo così ci metti il numero di telefono che già ti telefona subito va bene? gloria a Dio va bene alleluia Michele dice qualcos'altro di perdonarci illuminarci e darci le forze per fare ogni cosa giusta bravo bravo fratello Michele vede che sei bravo ecco perché ti ho nominato gestore perché me lo sentivo che tu sei bravo fratello Michele è da tanto tempo che ti conosco gloria a Dio allora qui ci vuole uno che dice una testimonianza io abito ai castelli romani castelli romani abita se lì c'è guarda che Roberto abita ai castelli romani scrivici la via e il numero dei castelli romani scrivici potessi che magari un bravo un bravo massaggiatore e chissà se non ti metta lì in piedi perché basta toccare i punti giusti che stimolano io ne so ne so qualche cosa perché io studio queste cose il corpo umano lo studio in profondità e mentre io tocco sopra nel muscolo qui qui qua sopra vado a stimolare le dita delle mani e so dove toccare capisci e mentre tocco le orecchie faccio sentire il riflesso nelle dita dei piedi l'importante è escludiare il corpo umano ed entrare dentro il cervello umano è caduto il fratello Roberto c'ha poca connessione bravo felice è caduto Roberto adesso sperando che perché lui non c'ha corrente a casa ci hanno tagliato la corrente e deve attaccarla in questi giorni è successo che non c'è arrivata da pagare la bolletta e gli hanno tagliato la corrente avendo i soldi è rimasto senza corrente e nella sua situazione quest'anno ha fatto freddo ed è rimasto congelato è un peccato un peccato grosso un peccato grosso per che succedono queste cose poverino e lui non può camminare c'ha problemi ma il signore provvederà dai se puoi fare qualcosa felice fallo di più lui ha bisogno di massaggio nell'osso sacro e nelle costole nella colonia vertebrale e nella cervicale più devi toccare quei punti e poi vai anche nella coscia perché ci consente il ginocchio e i polpacci tutto aggrappato sbroglia tutte quelle colonne e le cosce e vedrai che lui si metta a camminare gloria a Dio se c'è qualcuno che vuole testimoniare sono a disposizione di ascoltarlo e allora sorella Barbara come stai tu? io sto bene stai facendo quello che ti dico sempre io limone acqua bollita insalata riso minestra oggi mi ho mangiato la minestra con lo sparegello con il broccoletto oh con buono si e io ho mangiato un po' di pesce azzurro con il limone saltato ti raccomando sempre in questi giorni anche che fa freddo mangi sempre liquido va bene e bevi acqua bollita con il limone io penso che sta andando meglio ti senti più leggera? si si eh mi sento più leggera si fratello Felice ha mangiato i gnocchi al pesto bravo buono c'è il fratello Paco H.E. che partecipa ciao Paco ti voglio bene Paco Dio ti benedica benedizione Pacuccio gloria a Dio allora c'è Ciziman Andre vuoi dire qualcosa Ciziman vuoi dire qualcosa? vuoi dire qualcosa Ciziman è caduto vabbè dai allora io vi dico aggiungetevi gli amici che potete salire qua perché è importante che vi sento testimoniare mi raccomando sorella Margherita cerca di aggiungere amici qua dentro vedete Felice ha aggiunto Roberto anche voi aggiungete tutti qua dentro quelli che sono qua dentro quelli che sono qua dentro basta che ci cliccate nella foto compare il suo profilo rosso ci dovete cliccare e diventa bianco e l'avete aggiunto è semplice aggiungere le persone dovete cliccare nelle foto delle persone che sono qua dentro se passano mille persone qua dentro voi le potete aggiungere 120 al giorno fino a 120 le potete aggiungere e come? 60 in qualunque momento che cominciate altri 60 dopo due ore e mezza avete capito? perché vi blocca TikTok ma in un giorno potete aggiungere 120 120 al giorno quanto fanno? per 4 io penso che qualche 20 ce l'avete già 20 amici e avete risolto in 4 giorni salite qua sopra lo volete capire sì o no? ci sono persone che qua io li conosco da un anno e mezzo e io vi dico che a 4 giorni voi salite nella webcam ma come ve lo devo insegnare? io un profilo l'ho fatto la settimana scorsa e adesso sono in online io una settimana sono arrivato a mille avete capito? sì o no? dovete recepire questo messaggio basta che andate nel mio profilo dovete cliccare a centro sotto la mia foto a centro allora Carlito te lo spiego di nuovo come devi fare tu non hai bisogno che la gente ti aggiunga allora ve lo dico ve lo dico chiaro ascoltatemi perché ve lo sto dicendo in un modo così chiaro che è difficile che non lo capite se andate in youtube c'è il video come aggiungo le persone però ve lo dico qua che lo capite subito allora in qualunque momento che cominciate andate nel mio profilo sotto la mia foto al centro c'è fallover scrivetelo andare nel profilo di Angelo Piccone e c'è sotto la sua foto fallover al centro non dovete aggiungere amici che sono a sinistra e neanche i miei piaci che sono a destra no dovete aggiungere solo fallover perché solo fallover perché quando voi aggiungete sempre fallover 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 mentre voi aggiungete fallover ci arriva la notifica a tutti quelli che voi aggiungete ci arriva il messaggio che voi l'avete aggiunto fallover e loro sono obbligati ad aggiungervi avete capito e quando vi aggiungono loro vi arriva la notifica che vi hanno aggiunto come amici avete fatto il gioco una sola volta invece quando aggiungete voi amici 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 non avete risolto niente perché siete a zero con i fallover e dovete fare il lavoro due volte ecco perché non arrivate mai e allora in qualunque momento che voi cominciate o della sera o della notte quando cominciate andate nel mio profilo e fate due cose mentre vi aggiungete i fallover miei tutte le persone che entrano nelle mie live già sono vostri amici avete capito fate tre cose fate una che aggiungete i fallover e gli altri che voi aggiungete i fallover vi aggiungono come amici la terza è che quando entrate nelle mie live sono tutti amici vostri già automaticamente avete capito fate tre cose ora non so se avete capito come voi fate 60 di che da rossi fate diventare bianchi tic toc vi blocca vi dice stai andando troppo veloce e mi segui e magari che fate tic 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 diventa bianco e subito dopo un istante diventano di nuovo rossi avete finito dopo 60 avete finito dovete smettere dovete smettere non avete diritto voi avete diritto dopo due ore e mezzo se voi ci andate prima ci andate dopo un'ora si potete aggiungerne ma non 60 aggiungete finché vi blocca di nuovo potete aggiungere 10 20 30 40 dipende quando cominciate di nuovo non arrivate a 60 di nuovo no perché devono passare due ore e mezzo per arrivare di nuovo a 60 e sarebbe 60 a prima round e 60 al secondo sono 120 in sostanza in un giorno avete 120 fall over e 120 vi aggiungono gli altri avete 120 fall over e 120 amici automaticamente gli amici c'è quando vi aggiungono subito c'è quando le persone ancora non si collegano e non vi arriva l'amicizia di seguito capite non vi dovete disperare quando queste persone si collegano ci arriva la notifica e vi aggiungono nell'eventualità che ci sono dei telefoni che non li usano voi ne aggiungete diversi quelli che non vi hanno aggiunto perché sono telefoni capaci che li mettono da parte e sono profili che non li usano più capite perché e vi ho dato tutte le informazioni di qui a una settimana e vi voglio vedere tutti qua sopra se non lo fate entro dentro i vostri cervelli e vi scrivo i cervelli vi faccio automatici poi siete obbligati a farlo adesso siete liberi di farlo vediamo se lo fate gloria a Dio adesso prego adesso prego e chiudiamo con la preghiera Carlito dice parlaci tu tu fai quello che ti ho detto io che vedrai che tutto si sistemerà va bene ok Carlito va bene a posto gloria al Signore adesso preghiamo e chiudiamo vedi che ci hai messo 492 e te ne mancano ancora 11 te ne mancano o 9 9 te ne mancano però devi avere 501 segui e 501 fallovere se no non puoi salire conta quanto ce n'hai adesso te lo dico io quanto ce n'hai ecco tu hai 495 seguite e 206 fallovere hai visto hai sbagliato tu hai seguito 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 è sbagliato allora avete capito fratelli e sorelle Carlito ha sbagliato non dovete seguire nessuno quando seguite qualcuno è perché avete bisogno di parlargli di seguirlo voi dovete cliccare fall over andate nel mio profilo e cliccate sempre fall over non avete bisogno di nessuno voi dovete cliccare solo fall over volete vedere come si fa andate nel mio profilo sotto la mia foto di qualsiasi profilo c'è scritto al centro precise fall over lì dovete cliccare e si apre la tendina di tutti i miei seguiti fall over va bene ok adesso preghiamo e chiudiamo padre tanto ti prego per tutta la life benedice che